Nicola Bellucci ha già un merito pazzesco raccontarci la cecenia una delle ultime volte che avevo avuto occasione di guardarla era stata attraverso delle foto fatte dal fotografo di Anna Politoskaya e poi in un film di Sokurov se non sbaglio Alexandra ed è un posto incredibilmente suggestivo perché straordinariamente cinematografico e allo stesso tempo annichilente a livello d'immagine perché è brutale nel proporsi anche nei suoi piccoli orrori ha il pregio di andare dove non immagineremmo non perché non conosciamo Grosny ma anche perché abituati all'informazione che abbiamo avuto i luoghi che lui trova sono profondamente diversi da quello che sono stati riempiti dal nostro immaginario insomma ed è anche molto interessante questo aspetto della musica dell'arte che cerca di farsi strada tra le macerie della normalità del racconto di giovani che noi siamo abituati a pensare negati da quello che vivono e mi interessa molto la circolarità espressiva del film quella anche quel coraggio nel tornare dove si è stati nel costruire una coerenza interna visiva e narrativa anche piuttosto rigorosa e allo stesso tempo la libertà e la tranquillità con cui ci vuole mostrare quello che sente forse poteva esserci più blues non nel senso di musica ma un po più di blues cinematografico un po più di scartamenti di momenti imprevedibili di un racconto che poteva magari in alcuni momenti fare un'inversione a U e invece Bellucci seguendo anche la lezione di grandi maestri del documentario va dritto al punto appunto concedendosi solo che non è poco questa coerenza questa circolarità che sono molto interessanti e ovviamente l'ambientazione viene trattata con una ottima consapevolezza registi anche per questo film o avrei potrei avere la critica che ho avuto per molti altri che c'è qualche minuto di troppo mi sembra duri un'ora e 45 un'ora e 45 sono veramente tanti eh cioè bisogna essere Clint Eastwood scusa però mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto mi è piaciuto cioè era un film che meritava di essere un lungometraggio forse non un'ora e 45 ma certamente mi è piaciuto anche il suo andamento non così lineare tra passato presente ed è un film che apparentemente non si preoccupa che tutto venga capito che tutto sia chiaro ma non è un film criptico si capisce alla fine tutto cioè nel senso che la durezza di vivere in un paese che ha avuto delle ferite terribili di guerra di repressione di tortura e queste ferite cercano di essere cancellate ma le protagoniste sono testimoni invece di queste ferite cerco di tenerle in vita questa atmosfera terribile di vivere in un paese qui si è circondati di chi vuole cancellare le tracce del dolore ma non perché ora si sta bene solo perché fa più comodo a chi ha il potere in questo momento è una cosa che io ho sentito nel film dall'inizio alla fine ma non mi ha mai stancato ho sentito che era sempre interessante e poi comunque un regista italiano si confronta una realtà così lontana apparentemente da noi come la Cecenia ma l'ha fatta in una maniera molto profonda non in una maniera superficiale insomma a me è piaciuto molto il film e questa atmosfera inquietante di cui è permeato dall'inizio alla fine appunto senza spiegare troppo alla fine arriva tutto quello che deve arrivare quindi vuol dire che l'andamento apparentemente non lineare invece è un grande lavoro alle spalle questo è un film complesso che racconta un grande arco di tempo di storia anche di storia con la s maiuscola e quindi è sicuramente un documentario molto impegnato politicamente e che quindi apre una serie di riflessioni importanti su quello che è il destino che noi esseri umani siamo a volte in grado di lasciare le future generazioni in modo del tutto inconsapevole soprattutto una questione sulla memoria ci sta questo momento nel film in cui appare sempre più evidente come la questione del genocidio in qualche modo sia del tutto occultata dal governo presente per poter permettere in qualche modo di mantenere lo status quo come questo non riesca non permetta alle persone di andare avanti con la loro vita e quindi è sicuramente un film che ho amato vedere ho trovato un po difficile è quasi un peccato il fatto che il film parte con tre protagoniste donne che sono state delle eroine ai tempi della seconda guerra e che hanno documentato con delle riprese insomma gli effetti disastrosi della guerra ed è un po' un peccato che il film non riesce a stare su di loro tutto il tempo invece senta la necessità spesso di uscire in altre immagini storiche in altri momenti affrontando delle tematiche tipo la questione della donna in cecenia oggi rispetto a una cultura musulmana come il nuovo governo sono tutte tematiche sicuramente molto importanti ma che per me hanno tolto spazio alle tre protagoniste che mi sembrano invece fantastiche su cui si sarebbe potuto lavorare ancora di più per tirare fuori la loro umanità e quindi sicuramente un lavoro molto interessante mi dispiace solo per questo aspetto cioè che hanno fatto una scelta poi nel montaggio di buttarsi più sulla spiega storica rispetto alla parte invece motiva dei personaggi che racconta che sono di una forza eccezionale